L'attuale aumento dei tassi di interesse della Fed è il più veloce dal 1980 e troviamo conferma in questo grafico con tutti gli aumenti anno per anno da parte della Federal Reserve americana a partire dal 1957. Vediamo un 5,12% nel 1980 e siamo a un 4,33% per il 2022. Questo consolida quanto è già stato fatto 3,83 più 0,80 che è quanto ci si aspetta come aumento dei tassi di interesse da adesso sto registrando il 25 di novembre a fine dell'anno e in un video precedente in cui commentavamo la situazione dell'inflazione dei tassi di interesse in Europa se te lo sei perso è questo link in descrizione abbiamo lanciato una proposta ok 3% di tasso di interesse sempre giusto così non vi sbagliate banchieri centrali perché giustamente persone come Giuseppe Sole dicono ma questa storia dei rimbalzi di iperinflazione recessione e poi correzione e poi contro correzione dei tassi mi pare più o meno come regolare l'acqua calda quando ti fai la doccia e questo sì è corretto un esempio che abbiamo fatto anche noi in varie occasioni ma non ci sono quei rubinetti dove si imposta la temperatura sul display sì è il famoso 3% all'anno fisso che vorremmo tutti avere per non dover incappare da un lato in bolle speculative come è successo nel 2021 o nell'ultimo decennio dal 2010 al 2020 ci sono state varie bolle speculative dall'altra parte non dover avere una recessione come quella che verosimilmente ci aspetta nel 2023 perché verosimilmente ci troviamo di fronte ad un hard landing hard landing che abbiamo già commentato essere quella condizione in cui i tassi di interesse aumentano molto velocemente e per contenere l'inflazione fondamentalmente si porta l'economia in recessione come già successo nel 1980 ma in questo video ho deciso di fare un ulteriore approfondimento sul tema dell'inflazione americana e di ciò che sta facendo la fed perché ci sono un paio di documenti molto interessanti che voglio condividere provenienti proprio dalla fed stessa robe turche su questo canale ormai vi stiamo abituando ad una qualità del contenuto che voi stessi ci confermate essere elevatissima quindi senza ulteriore indugio iniziamo questo video anche in piano finanziario abbiamo un'offerta per il black friday abbiamo deciso di scontare del 25 per cento il nostro workshop in casa chiamato creo il mio piano finanziario una giornata che passeremo insieme e che ti permetterà di capire come far lavorare il tuo risparmio e il tuo patrimonio verso i tuoi obiettivi finanziari da settembre hanno fatto già questo percorso oltre 100 persone e abbiamo già molte date sold out anche a gennaio però abbiamo deciso comunque di fare un'offerta imperdibile per iniziare questo percorso verso i tuoi obiettivi finanziari a condizioni super vantaggiose l'offerta scade domenica 27 novembre per maggiori informazioni clicca il link che trovi qui sotto o in descrizione quando si parla di fed bce politiche monetarie cerchiamo come avrai notato di riportare i fatti sottolineare il fatto che magari sono stati commessi degli errori da parte dei banchieri centrali come nel 2021 allo stesso tempo cerchiamo di far capire qual è la complessità di prendere decisioni di questa natura in questo contesto e noi partiamo dal presupposto della buona fede presupposto che non convince una parte del pubblico che ci segue infatti francesco dice beato te giorgio che credi che christine lagarde commetta errori già a quel livello non sono errori ma deliberate azioni con chiare conseguenze c'è un complotto per impoverirci l'abbiamo capito ne abbiamo già parlato in altri video ciao tu sei bravo in gamba condivido le analisi sanno tutto stanno facendo tutto apposta e creano situazioni appositamente guerra compresa per dare al popolino le giustificazioni le colpe di eventi come sempre non si capisce quale colpa abbia il popolo in questo caso però molti avevano previsto tutto vorrei sapere chi chi aveva previsto tutto anzi sapevano creano emergenze terrore paura impoverimento seguendo il piano di reset ecco questo è un tema molto interessante fa tutto parte di un unico progetto alla fine proporranno le valute digitali centralizzate come soluzioni a problemi da loro stessi creati e seguono un copione infatti è probabile giustamente ci si dà mano l'altro questo è un confirmation bias incredibile attenzione al confirmation bias che è il male dei social in cui viviamo siamo portati a trovare conferme delle idee che abbiamo già in testa questo anche detto tendenza alla conferma confirmation bias in inglese attenzione attenzione se vuoi essere una persona che utilizza i social in modo ragionevole e prende il meglio di che i social questi questi strumenti come questo video ti può dare è fatti delle idee e cerca prove che non confermino la tua tesi ma che la smontino al contrario deve cercare qualcuno che mette in discussione quello che c'è stai già pensando se non lo trovi bravo vuol dire che sei sulla strada giusta se lo trovi non significa in alcun modo che tu abbia avuto l'intuizione giusta potrebbe essere un'intuizione completamente sbagliata viviamo all'interno di bolle di contenuti in cui se sei per il filone complottista l'algoritmo ti farà vedere solo contenuti in linea con questa idea quindi attenzione attenzione perché quando leggiamo dei commenti così diciamo ciao confirmation bias ce l'abbiamo quindi tornando al commento parallelamente inizierà una campagna massiva contro le criptovalute successivamente discrimineranno e perseguiteranno chi detiene criptovalute ok mi sembra un film già visto non so a che film fai riferimento scrivicelo nei commenti e quando si parla di complotti io non riesco a farmi prendere dall'idea del complottismo che non vuol dire che abbiano fatto solo cose giuste ok le abbiamo già commentate ma l'idea di complotto significa premeditazione significa mettere d'accordo tante teste in nazioni differenti significa tenere all'oscuro centinaia migliaia decine di migliaia di persone non riesco a credere molto all'idea dei complotti ma sono un illuso io ed evidentemente ne sa di più una persona che commenta il nostro video su youtube non lo so io alzo le mani io mi limito ad analizzare e a portarti le prove di quello che viene dichiarato a livello di banchi e a livello di banche centrali quello che sono analisi finanziarie fatte che sono comprensibili come vedrai tra poco che sono condivisibili o contestabili però cerchiamo di ragionare su fatti la premeditazione finché non ci sono le prove per me non è particolarmente interessante e quindi non te la proporremo mai su questo canale là fuori però è pieno di canali in cui si fa tantissimo complottismo senza prove mi spiace non è il modo in cui comunichiamo su questo canale invece comunichiamo con fatti e quindi iniziamo ad adentrarci sui fatti perché ripeto ci sono degli errori che sono stati commessi dalle banche centrali oltre alla gestione dei tassi di interesse nel 2021 ho trovato questo articolo che secondo me offre degli spunti di riflessione molto interessanti ok è ora chiaro che il quantitative easing è stato un errore di politica monetaria colossale ok che cosa si intende per quantitative easing alleggerimento monetario quantitative easing in altre parole quando i tassi di interesse sono zero questa è anche detta monetary policy number one cioè politica monetaria di fase 1 lavori con i tassi di interesse bene facile quando questi sono a zero come è successo nel 2012 13 negli Stati Uniti che fai come fai a dare uno stimolo all'economia se i tassi sono a zero e dal punto di vista monetario puoi fare poco non è vero che posso fare poco posso passare a livello 2 politica monetaria fase 2 quantitative easing inizio a comprare titoli di Stato sul mercato come banca centrale ok quindi cosa faccio deprimo i rendimenti dei tassi di interesse e li porto tutti i bassi un anno fa non si trovava un titolo di Stato scadenza 10 anni che avesse un rendimento superiore all'1% quindi perché perché là fuori c'erano banche centrali che con operazioni di alleggerimento monetario compravano titoli di Stato qua e là comprimendo i rendimenti perché c'era un compratore che comprava tutto sul mercato e di conseguenza i rendimenti si abbassavano se non ti è chiaro questa relazione rendimento prezzo scrivicelo nei commenti e faremo un approfondimento futuro quando anche la politica monetaria fase 2 non funziona c'è sempre la fase 3 qual è la fase 3 l'abbiamo vista nel 2020 2021 non stimolo sufficientemente l'economia tenendo i tassi di interesse bassi e facendo sì che un finanziamento quindi costi molto poco beh allora ti metti soldi in tasca ok negli Stati Uniti è quello che è successo arrivava il famoso stimulus check cioè assegno di stimolo nel 2020 21 che era un assegno che ti arrivava per posta con dei soldi così li spendi te lo assicuro che stimoliamo l'economia l'hanno stimolato un pochino troppo ed è quello che è successo nel 2021 si è usciti dall'emergenza sanitaria la gente è tornata a consumare c'era un blocco della catena di fornitura la gente però era piena di soldi il tasso di risparmio negli Stati Uniti era arrivato al 30 per cento come abbiamo visto in altri video la gente era stracolma di soldi e ha comprato tutto quello che poteva comprare inflazione alle stelle il tema è proprio questo in questo articolo molto interessante del Washington Post non si sta andando a contestare tanto la situazione attuale si dice guardate ragazzi siamo in questo problema per quello che è successo nei dieci anni precedenti che è appunto il quantitative easing l'alleggerimento monetario perché dare così tanti stimoli monetari è la fase 2 della politica monetaria che ti ho spiegato due di tre bene porta ad un'alterazione della percezione del rischio in altre parole se una banca centrale compra titoli di Stato a destra manca abbassa i tassi di interesse e le persone per avere un rendimento dal proprio investimento devono prendersi più rischio e quando si prendono più rischio o quando passano a prendersene troppo si creano le condizioni per bolle speculative dall'articolo infatti si legge che il grande sperimento dell'alleggerimento monetario è stato un errore ed è ora per le banche centrali di accettare il fatto che è stato un fallimento le banche centrali dal 2008 hanno comprato di tutto titoli di Stato a lunga scadenza ok quindi Treasury ma per la BCE sono stati comprati Bund BTP e compagnia bella ma compravano anche mortgage backed security negli Stati Uniti quindi titoli che avevano all'interno dei mutui mortgage il quantitative easing aveva appunto l'obiettivo di ridurre i tassi di interesse a lunga scadenza che è la parte lunga della curva e questo avrebbe spinto la domanda e stimolato il prestito da parte di istituzioni finanziarie nei confronti di imprenditori che volevano magari fare o di aziende che volevano fare dei progetti di sviluppo e quindi stimolare la presa di rischio in termini di appunto il denaro costa poco vedo che ho possibilità di far crescere la mia azienda faccio un investimento perché il denaro costa poco ed è conveniente posso prendermi del rischio questo discorso del prendersi il rischio chiaramente cambia in base a quanto costa il denaro e quindi quanto quanto è il rischio che corri perché se il denaro costa il 10 per cento invece che l'uno è chiaramente i business plan devono rendere molto di più e devono essere come dire più solidi quello che si contesta in questo articolo del washington post è che ci sono pochi segnali che a livello economico economico non finanziario economico il quantitative easing abbia dato dei benefici rispetto ai costi ok in altre parole quello che dicono è sì il costo qual è del quantitative easing è che sono stati dati stimoli monetari a destra manca la percezione del rischio è cambiata e si gonfiano bolle speculative il vantaggio economico non è stato sufficientemente elevato da giustificare gli svantaggi che dobbiamo adesso gestire come appunto il fatto che abbiamo comunque un'inflazione alle stelle e valutazioni di classe di investimento molto elevate adesso le banche hanno le mani legate e cercano di contenere l'inflazione aumentando i tassi di interesse e facendo il quantitative tightening cioè il la restrizione monetaria è il contrario prima immettevano denaro in circolazione comprando titoli di stato quindi compravano i titoli sono nel bilancio della fed e immettevano denaro in circolazione adesso fanno il contrario vendono titoli di stato e tirano via denaro in circolazione e il bilancio di una banca centrale si comprime infatti questo significa stop all'acquisto di titoli di stato a lunga scadenza ma si stanno accorgendo che la fine del quantitative easing e quindi il passaggio a questa nuova fase monetaria può essere esso stesso una minaccia alla stabilità finanziaria questo è il tema uno studio chiamato 50 sfumature di quantitative easing a che poesia ma questo è un paper che è stato pubblicato quindi uno studio universitario quindi uno studio che ipotizzano sia di una qualche università ha analizzato l'impatto che il quantitative easing ha avuto sull'economia ed è stato riscontrato da tutti i ricercatori le ricerche che sono state fatte che il quantitative easing è stato visto dalle banche centrali come un grande successo ok ovviamente l'hanno fatto siamo siamo i migliori della classe ma solo la metà delle ricerche accademiche ha dimostrato quindi non ricerche fatte dalle banche centrali ma ricerche accademiche fatte da enti terzi istituzioni non legate a alle banche centrali solo la metà dei ricercatori indipendenti potremmo chiamarli ha verificato un effettivo vantaggio a livello di output di produzione economica o di inflazione e anche quando sono stati identificati dei vantaggi bene questi sono molto inferiori rispetto alle dichiarazioni delle banche centrali allo stesso tempo ci sono dei costi molto importanti da dover affrontare accettare quali sono i costi beh innanzitutto il punto che adesso la fed sta pagando dei tassi di interesse sulle sue riserve che sono superiori a quanto in cassa dal suo attivo il suo attivo sono i titoli di stato che ha in pancia quindi in altre parole le banche centrali in questo momento sono in perdita è molto tecnico però se ti interessa fammi capire che ti interessa come ovviamente facendo arrivare questo video 2000 mi piace e ti spiegherò perché adesso le banche centrali sono in perdita e che cosa può voler dire a livello economico finanziario il fatto che una banca centrale sia in perdita i costi indiretti li abbiamo già capiti il quantitative easing tiene gli tassi di interesse troppo bassi e distorce la percezione del rischio dal momento che i titoli obbligazionari sono considerati il risk free asset c'è un titolo di stato dieci anni americano tedesco non italiano perché non siamo a rischio zero in italia bene questo è considerato il risk free asset cioè in altre parole un investimento a rischio zero e sulla base degli investimenti a rischio zero si prezzano tutte le altre classi di investimento azionario immobili questo spieghiamo nei nostri percorsi perché non riuscire a collegare il rendimento delle varie classi di investimento cioè che tutto si prezza sulla base del decennale vuol dire non capire che ad esempio in certe condizioni non conviene comprare un immobile a rendita perché ti conviene magari prendere un'obbligazione ma vallo a spiegare a tutti gli italiani amanti degli immobili che non hanno cultura finanziaria e non sanno fare queste valutazioni tra classi di investimento differenti il tema è che i tassi di interesse di conseguenza i titoli di stato definiscono le valutazioni di qualunque classe di investimento ne vuoi una prova ne vuoi eccole perché su questo canale solo prove solo fatti come al solito tutti i documenti slide che puoi scaricare alla fine del video gratuitamente in un pdf che ti mettiamo a disposizione la prova del fatto che le valutazioni di qualunque investimento dipende dai tassi di interesse e dal decennale la troviamo in questo grafico che fa uno spaccato del rendimento degli ultimi 10 anni per l'S&P 500 americano il 37% del rendimento dell'S&P 500 che è il principale mercato azionario americano dipende da un'espansione dei multipli se vuoi dettagli ti scarichi il pdf e te lo guardi con calma solo il restante 63% dipende dagli utili dalla crescita degli utili dai dividendi e dai buybacks cioè dall'acquisto di azioni da parte delle società che sono all'interno dell'S&P 500 in altre parole è un po tecnico ma mi farò capire la maggior parte dell'incremento dell'S&P 500 che c'è stato negli ultimi dieci anni circa dall'11 al 21 è dipendente dall'espansione dei multipli espansione dei multipli cosa significa significa che le persone erano disposte a spendere di più proprio in termini di rapporto prezzo utili questo si chiama multiplo di valutazione bene le persone erano disposte a spendere di più per l'intero paniere dell'S&P 500 ma la stessa cosa vale anche per altri panieri o per titoli singoli perché le persone erano disposte a spendere di più perché il denaro costava poco perché costava poco perché c'era il quantitative easing che abbiamo spiegato precedentemente quindi l'alleggerimento monetario altera la percezione del rischio proprio per questo per comunque avere un rendimento dai propri investimenti prendono più rischio significa anche che sono disposte a spendere di più per comprare un determinato investimento questo fa sì che il rendimento futuro il rendimento atteso sarà più basso la prova di questo è in questo grafico meraviglioso di pura analisi finanziaria che puoi trovare solo su questo canale ma non solo ti diamo anche la possibilità di scaricarlo come dicevo prima quindi questi sono gli errori a livello storico delle banche centrali cioè che probabilmente al di là del fatto che hanno esagerato nel 2021 con gli stimoli e nel 2020 forse hanno esagerato anche un po' nel decennio precedente ok attenzione attenzione perché se il rendimento dei mercati finanziari dal 2010 al 2020 è stato così incredibile ok è perché dietro c'era questa politica monetaria quindi in altre parole se le banche centrali buttano soldi sul mercato ovviamente è più facile che i titoli azionari obbligazionari qualunque investimento cresca di prezzo la stessa cosa è uguale e contraria se le banche centrali tirano via liquidità ma quindi non possiamo lamentarci contro una banca centrale si è gonfiato una bolla speculativa perché ha messo in liquidità nel mercato se comunque per dieci anni i mercati sono cresciuti e abbiamo visto il bull run cioè la crescita dei mercati più lunga di sempre da marzo 2009 che è stato il minimo del ciclo precedente a febbraio 2020 è stato se non il primo o il secondo mercato realtista più lungo della storia in mezzo c'è stato qualche momento di volatilità ma sul lungo periodo si è cresciuti ok ma quelli erano gli errori storici adesso parliamo degli errori moderni della fed errori possibili errori ovviamente il passato è passato e come al solito è facile fare valutazioni sul passato cerchiamo di capire cosa sta succedendo adesso in particolare l'evoluzione dei tassi che mi preme approfondire ho trovato questo grafico che mostra come negli stati uniti come vedi facciamo aggiornamenti periodici sugli stati uniti sull'europa stati uniti europa perché più o meno una volta al mese ci sono evoluzioni a livello di momento dei tassi di interesse evoluzione dell'inflazione quindi l'ultimo aggiornamento era stato sulla bce adesso sulla fed bene negli stati uniti l'inflazione sta calando l'abbiamo già commentato in altri video ma sembra sembra confermarsi questo trend di ritorno dell'inflazione su valori più ragionevoli per ora siamo al 5 per cento da lì a dire che torniamo al 2 ne passa un po però comunque c'è stato uno storno abbastanza deciso su cpi core goods quindi non su tutta l'inflazione ma su core goods cioè i beni di prima necessità e beni principali potremmo dirlo sì più o meno quindi viene da chiedersi ok ma se quindi l'inflazione sta calando quanto andranno avanti la fed dei banchieri centrali in generale ad aumentare i tassi di interesse quale sarà il terminal rate questo è quello che si chiedono tutti gli analisti ti farò vedere molti dati e stime e previsioni future ma questa è la domanda fino a dove si arriverà con i tassi di interesse perché finito l'aumento dei tassi di interesse magari si tornerà ad una fase di stimolo monetario e quindi il capire quando si arriverà alla fine dell'aumento dei tassi di interesse è un po' come capire per quanto tempo saranno in crisi i mercati finanziari perché chiaramente finché siamo in questa fase dobbiamo dare per scontato volatilità nei mercati bene ho trovato questo documento incredibile cioè solo fuochi d'artificio veramente su questo canale direttamente dalla federal reserve di san luis che periodicamente pubblica dei report delle analisi come questo come al solito qui ti metto degli screenshot se vuoi l'intero pdf ti mettiamo il link nel pdf che puoi scaricare alla fine del video quello che emerge è in questo documento hanno palesato l'errore che hanno commesso ok infatti è incredibile perché fanno vedere il policy rate quindi i tassi di interesse l'aumento dei tassi di interesse questa è la linea blu e che cos'è quest'area grigia questo sarebbe il tasso di interesse raccomandato diciamo teorico se venisse seguita la regola di taylor che cos'è la regola di taylor te lo dico tra poco prima dobbiamo capire innanzitutto che c'è secondo questa regola di taylor i tassi di interesse sarebbero dovuti iniziare ad aumentare più o meno occhio e croce a marzo del 2021 quando sono iniziate ad aumentare a marzo del 2022 un anno dopo ok quindi già da questo documento dichiarato dalla fed di san luis di fed ce ne sono tante negli stati uniti uno per ogni stato federale quindi non significa un granché in assoluto questa dichiarazione è l'analisi del banchiere centrale della fed di san luis però sai a decidere le politiche della fed degli stati uniti ci sono poi tutti i singoli banchieri centrali dei singoli stati quindi comunque questa è una dichiarazione rilevante e già da questo documento emerge come ci sia stato un errore bello grosso perché i tassi di interesse dovevano aumentare probabilmente un anno prima ok ma che cos'è la regola di taylor diventa iper tecnico ti voglio far capire solo a livello macro di cosa si tratta poi se vuoi approfondisci autonomamente è un modello economico quindi è una teoria accademica potremmo dire per capire i tassi di interesse ok che dovrebbe definire una banca centrale sulla base di cosa dell'inflazione fondamentalmente c'è una bellissima formula che è questa qui che ti traduco molto semplicemente che di fatto è riassumibile in la regola di taylor direbbe che tasso di interesse reale dovrebbe essere circa 1.5 volte il tasso di inflazione e l'abbiamo commentato in varie occasioni che i tassi di interesse reali cioè al netto dell'inflazione erano negativi per 8 o 9 punti all'inizio dell'anno un'autentica follia la regola di taylor dice appunto che il tasso di interesse reale dovrebbe essere circa 1.5 volte tasso di inflazione quando commentavamo che eravamo in profondo territorio negativo con i tassi di interesse in termini reali cioè appunto al netto dell'inflazione eravamo circa a meno 3 adesso stiamo correggendo velocemente perché perché aumentano i tassi di interesse allo stesso tempo si riduce l'inflazione e quindi torniamo su valori un po' più ragionevoli ma è ovvio che tendiamo ad avere inflazione più elevata quando questo indicatore cioè il tasso di interesse reale è molto negativo e quindi in altre parole l'inflazione è molto alta in relazione ai tassi di interesse nominali non c'è capito niente lo so è un po' tecnico riascolta questo video vai indietro l'importante è che tu capisca che secondo quella che è una teoria accademica che spesso viene seguita da molti banchieri centrali ma nell'ultimo periodo non è stata seguita i tassi di interesse sarebbero dovuti aumentare un anno prima rispetto a quando sono stati fatti crescere questo ritardo di un anno ci ha portato all'inflazione fuori controllo che stiamo commentando ormai negli ultimi mesi sempre dal documento della fed si legge che quando l'inflazione è sopra il target del 2 per cento i modelli economici solitamente utilizzati consigliano di aumentare i tassi di interesse sì ma di quanto questo è il tema di quanto bene secondo la regola di taylor l'abbiamo capito i tassi di interesse reali dovrebbero essere 1,5 volte il tasso di inflazione bene se anche consideriamo un parametro un po più conservativo 1,25 volte il tasso di inflazione saremmo comunque su questa linea tratteggiata diciamo che qui è discrezione di una banca centrale decidere quanto essere aggressiva o come dire più compiacente dal punto di vista della gestione di tassi di interesse quindi c'è un range una forchetta di di scenari in cui poteva essere più aggressiva più conservativa in questo caso è stata incredibilmente conservativa c'è stato nell'estremo opposto appunto con un ritardo di 9 12 mesi sull'aumento dei tassi di interesse i tassi di interesse sono aumentati di 75 punti base nell'ultimo meeting della fed di inizio novembre il tema che solleva appunto la fed di san luis è che questo aumento di tassi di interesse può aumentare il livello di stress finanziario a livello mondiale sia negli stati uniti ma anche a livello mondo lo vedremo tra poco per ora a livello di stati uniti non è ben chiaro come viene misurato questo financial stress index indice di stress finanziario e da parte da fed di san luis sostengono di essere ancora su valutazioni ragionevoli però siamo passati da stress molto forte a marzo febbraio marzo 2020 ma vedremo tra poco che il vero problema è il rischio di mettere in crisi la stabilità finanziaria anche di altre nazioni ok in particolare dei paesi emergenti come è già successo nel 1980 con la crisi del sud america la conclusione di questo documento è molto interessante in linea con i calcoli presentati in questo documento il tasso di interesse non è ancora sufficientemente restrittivo anche sotto le più generose interpretazioni anche con l'approccio più come dire tranquillo e colomba possibile siamo ancora al di sotto di un tasso di interesse che tenga sotto controllo l'inflazione che in altre parole significa è ragionevole aspettarsi ulteriori aumenti dei tassi di interesse e ora tiriamo fuori i popcorn perché vediamo le stime di aumento dei tassi di interesse bene Goldman Sachs ha fatto le sue stime sostiene che ci sarà appunto un aumento di 50 punti base a dicembre ci saranno aumenti più lenti tra febbraio marzo maggio quindi incrementi da 25 15 punti base per arrivare alla fine dell'anno a 55 25 come tasso di interesse finale mentre il mercato sta apprezzando 4 48 come valore finale dei tassi di interesse potremmo stare qua ore e ore a commentare il fatto che vari analisti finanziari di varie banche di investimento fanno stime diverse sia per il picco di tasso di interesse massimo che per il valore a cui si arriverà alla fine del 2023 c'è chi è più conservativo chi sta più cauto dice Morgan Stanley si arriverà solo al 4 75 chi dice che si arriverà come Numura Holdings al 5 75 sono chiacchiere da bar diciamo guarda le approfondisce se ti interessano quello che deve essere ben chiaro però è questo che sono stati aumentati i tassi di interesse con un ritmo molto deciso 75 punti base ma prima di arrivare ad uno stop dell'aumento dei tassi di interesse si vedranno aumenti dei tassi di interesse più contenuti cioè in altre parole si rallenta il processo di frenata ok perché aumentare i tassi di interesse è un po come spingere il pedale sul freno dell'economia bene quando si vede che l'economia sta rallentando si toglie un po di peso dal freno si frena meno in altre parole quindi ci saranno degli aumenti dei tassi di interesse più contenuti 50 punti base poi a un certo punto solo 25 punti base poi si dirà bene abbiamo raggiunto il tasso di interesse massimo e dopo cosa succede e dopo succede che si inizia a tagliare quanto può passare da una fase in cui si aumenta i tassi di interesse a una fase in cui si iniziano a tagliare bella domanda lo so che te la sei fatta e se non te la sei fatta me la sono fatta io e come al solito quando mi faccio delle domande ti do le risposte perché mi devo dare le risposte me le voglio dare anch'io per avere più chiari certi scenari futuri quindi eccolo qua a livello storico il tempo che è passato tra l'ultimo aumento dei tassi di interesse quando eravamo vicini al massimo e il primo taglio dei tassi di interesse sei mesi tre mesi due mesi cinque mesi cinque mesi otto mesi 15 mesi sette mesi quindi in altre parole è un processo ancora lungo potrebbe volerci ancora tutto il 2023 per vedere l'arrivo ad un massimo dei tassi di interesse e prima di poter vedere una riduzione dei tassi di interesse se facciamo le medie si va dai due mesi ai 15 mesi diciamo altri sei per poter vedere un calo dei tassi di interesse è ragionevole quindi potenzialmente una riduzione dei tassi di interesse potrebbe arrivare nel 2024 siamo a livello di chiacchiere da bar ma così abbiamo un po il quadro più completo di che cosa ci aspetta o meglio di che cosa ci potrebbe aspettare altri grafici altre tabelle te le mettiamo nel pdf perché se no questi video diventano veramente cioè esageratamente lunghi per questo canale e io devo andare a fare altro perché non faccio lo youtuber di professione ma una riunione esattamente tra 15 minuti quindi ti lascio da approfondire queste cose autonomamente con il pdf ma non prima di aver affrontato l'ultimo tema di questo video che è il trilemma che sta preoccupando la fed che cos'è un trilemma non lo so me lo sono chiesto anch'io quando ho letto questo articolo però è un'immagine molto chiara perché parte dall'idea del dilemma ok un dilemma devi scegliere tra una cosa e un'altra un trilemma è quando devi scegliere tra una cosa un'altra e un'altra ancora quindi in altre parole quando hai tre opzioni tra cui puoi scegliere ed è appunto quello che sta gestendo o deve gestire la fed non è un lavoro facile fare il banchiere centrale che che ne dica l'account napalm 99 che da camera sua commenta le politiche delle banche centrali non è un lavoro semplice jaron powell infatti sta affrontando una sfida gestionale una policy challenge che è potenzialmente più difficile di quella che è stata affrontata da il suo predecessore più significativo che è appunto paul volker negli anni 80 tra gli anni 70 gli anni 80 perché appunto deve abbassare l'inflazione non devastare esageratamente l'economia ed evitare allo stesso tempo un tracollo finanziario perché tracollo finanziario per quello che è successo prima per i dieci anni di quantitative easing che abbiamo già capito che hanno gonfiato molte bolle qua e là e hanno alterato la percezione del rischio da parte degli investitori il problema è che la fed ha sempre un duplice mandato da un lato deve tenere sotto controllo l'inflazione dall'altro deve preservare il livello occupazionale ma la difficoltà di questo giro di giostra è che deve mantenere anche la stabilità finanziaria questo non è un problema interamente nuovo infatti dopo che la fed aveva aumentato negli anni 80 massicciamente i tassi di interesse l'era volker l'economia americana era finita in recessione ma gli stati uniti hanno avuto un ruolo determinante nel coordinare una risposta globale e minimizzare il danno della crisi del debito dell'america latina debito che era stato emesso in dollari e quando si aumentano i tassi di interesse che cosa fa il dollaro sale quindi il debito dei paesi emergenti in quel caso l'america latina era difficile da ripagare perché la valuta in cui era stato emesso questo debito si era apprezzata tantissimo quindi in quegli anni sono state adottate varie politiche da parte dei banchieri centrali di assistenza finanziaria anche da parte del fondo monetario internazionale per evitare un problema di contagio sull'economia reale proprio derivante dall'aumento dei tassi di interesse shock che c'è stato negli stati uniti ed evitare che questo contagiasse l'intera economia mondiale in particolare quella del sud america oggi a differenza degli anni 80 la fragilità non è tanto nel sistema bancario ma nel settore non bancario che è meno regolato e meno supervisionato all'interno di questo ci sono asset manager fondi pensione non abbiamo già parlato del caso del fallimento dei fondi pensione caso uk sì assolutamente il problema è proprio questo se ti sei perso il video te lo mettiamo qui in alto link in descrizione ma anche hedge fund fondi di private equity eccetera il problema è principalmente il risultato di due cose prima come dicevamo queste istituzioni finanziarie fondi pensione hedge fund private equity arrivano da un periodo di tassi di interesse estremamente bassi e massicce iniezioni di liquidità anche detto quantitative easing infinity cioè alleggerimento monetario all'infinito in realtà è finito ok il problema secondo è proprio questo cioè il fatto che da giugno la fed ha aumentato drasticamente i tassi di interesse iniziando molto tardi e troppo poco perché ovviamente non è che puoi aumentarli di un per cento nel senso non avrebbe precedente distruggeresti il mercato già 75 punti base è tantissimo l'abbiamo già fatto vedere in altri video negli ultimi 30 anni ci sono stati 5 aumenti dei tassi di interesse da 75 punti base 4 di questi sono nel 2022 questo per farti capire la straordinarietà della cosa quindi muovendosi così tardi la fed ha potuto fare il massimo che poteva fare che era aumentare di 75 punti base ma troppo tardi e troppo poco gestire il rischio di stabilità finanziaria non è facile un aumento troppo aggressivo dei tassi di interesse può portare a shock finanziari come quelli che abbiamo detto su paesi emergenti ad esempio che peggiorerebbero il crollo occupazionale e di lavoro quindi abbiamo detto che è un trilemma ok metteresti in crisi sia il mercato occupazionale che la stabilità finanziaria un lento aumento dei tassi di interesse manterrebbe nel breve periodo la stabilità finanziaria al costo di portare l'economia in stagflazione perché 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 l'inflazione continuerebbe a essere altissima molto superiore alla crescita economica risultato uno scenario che non è desiderato da nessuno che è appunto una condizione in cui l'economia cresce poco ma c'è alta inflazione tutti i banchieri centrali vorrebbero tenere la stagflazione lontana come la peste quindi la politica monetaria sarà un difficile e delicato bilanciamento tra la stabilità finanziaria l'inflazione e il tema occupazionale per questo non è un dilemma ma è un trilemma questo problema della stabilità finanziaria è all'ordine del giorno sono in tanti che ne stanno parlando e tra questi anche stelly drunkenmiller famosissimo investitore di cui vediamo una clip tradotta in italiano perché su questo canale stiamo portando i contenuti finanziari ad un livello irraggiungibile almeno questa è la nostra opinione ci stiamo lavorando se lo condividi scrivicelo nei commenti quindi vediamo questa clip di stelly drunkenmiller c'è un'interessante storico fact che in fact i credo è iniziato a essere violata ma due undefeati records are number one once inflation gets above 5% it's never come down unless fed funds have gotten above the CPI well since the CPI is 8 that would call for a fed funds rate of above 8 frankly I don't think we'll get there because the extent of the asset bubble and the damage that would be done think about the fact that we have virtually no bankruptcies and look at this probably the most disruptive period since the 1890s il tema della stabilità finanziaria non è solo un problema nei confronti dei paesi emergenti ma anche di tutte quelle società che negli ultimi anni si sono indebitate e sono diventate cosiddette zombie company cioè sono società zombie ma anche detti morti viventi in cui il costo del debito quanto gli costa in termini di interesse servire il debito che hanno contratto è superiore ai profitti della società questo è cresciuto esponenzialmente questo è il quantitative easing sono i problemi dei quantitative easing quindi non dobbiamo prendercela con le banche centrali per quello che hanno fatto nel 2021 sì quello è un errore ma è anche tutto quello che è successo prima di cui comunque come investitore abbiamo beneficiato che ha cambiato la percezione del rischio ci ha fatto guadagnare con i nostri investimenti ma ha fatto sì che molte persone molte società si siano indebitate troppo non siano fallite quando dovevano fallire e sono dei morti viventi questa è la situazione sono gli errori commessi dalla fed e anche dalla bce in buona parte perché il tema è molto simile e sono le sfide che dovranno affrontare entrambe le banche centrali ma questo è un problema un po di tutte le banche centrali dei paesi sviluppati nei prossimi mesi e anni ma voglio concludere con una frase bellissima di Howard Marks investitore che stimo molto che studio e che ha pubblicato questo memo molto interessante gli è stato recentemente chiesto che cosa succederà all'inflazione quanto aumenteranno i tassi di interesse da parte della fed per combattere l'inflazione questo porterà l'economia in recessione e per quanto sarà grave questa recessione per quanto tempo durerà e lui molto tranquillamente perché non deve dimostrare niente nessuno parla il suo track record cioè i rendimenti che ha generato per i suoi investitori dice non so darti una risposta su quello che succederà nel breve periodo tutto quello che so relativamente al breve periodo è che la maggior parte degli investitori non è in grado di fare di battere il mercato cercando di prevedere quello che succede nel breve periodo a livello economico e a livello finanziario quindi non dovresti investire sulla base di opinioni su questi temi o sulle opinioni che altri hanno su questi temi questo è coerente con quello che ti diciamo tutte le volte che ti portiamo questi contenuti sul canale vogliamo capire cosa succede a livello economico finanziario ma questo non cambia il piano di investimento che portiamo avanti per il medio lungo periodo che comunque porteremo avanti qualunque sia la politica monetaria qualunque sia l'aumento dei tassi di interesse o la riduzione nel 2024 se vuoi scaricare il pdf con tutte le slide e molto altro perché non ho fatto in tempo a commentare tutto trovi il link qui in alto alla tua destra è chiaramente gratuito qui in basso se te lo sei perso ti riproponiamo il video sul problema dell'instabilità finanziaria dell'inghilterra che è partito proprio dai fondi pensioni quindi dai titoli di stato insomma una serie di eventi che ti spiegano appunto che cosa vuol dire un contagio e il rischio di instabilità finanziaria trovi il video qui in basso sulla destra se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale così non ti perderai futuri aggiornamenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao